Ma che dire, la rosa storia che può farci venire Ma che dire, che si vive, se lo si vada E andiamo a tutti così! E vogliamo voler saltare! Danza, danza, e gira tutta la stanza Perché si lanza, danza, e gira tutto il tuo corpo Danza, perché si danza, danza, e gira tutto il tuo corpo Guarda che sarà l'attimo di fare l'attimo di fare l'attimo di fare l'attimo Ma prima di fare l'attimo ancora una formula, attenzione! Sura da di! Sura da di! Sura da di! Sura da di! E la che si continua! E' pronti ad alzare le mani? E' pronti, pronti? E' pronti, pronti? Ci siamo, ci siamo! E dai che si vola! E' pronti, pronti? E' pronti, pronti, pronti? Ragga il giusto contore... Perché gli è fino aderco solo! E' pronti, in learning come in dall'anno... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.